Musica Dai, digli di sì! No! Dai, cosa ti costa? Non me la sento! Eh, non me la sento, non me la sento! Fallo per me, allora! No, per lei poi zero! Ma mi stai dicendo che preferisci finire lì dentro? Ma se dico di sì poi faccio la figura del pollo! Eh, si tratta di decidere se fare la figura o la fine del pollo! Ma quanti gradi saranno Giulio? 3000 Ok, lo faccio! Lo faccio al fin dei fratelli! Lo faccio! 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 Accetta! Accetta! Ok! Accetta! No! 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 No!